ciao a tutti ragazzi eccomi tornato ho preso qualche giorno sono stato fuori ma voglio parlarvi assolutamente di questo liquido oggi mi prendo anche una pausa comunque dalla linea di azd sapere sto portando comunque tutta la back in black sul canale abbiamo visto il 99 ovvero il 99 con le fave di cacao abbiamo visto il black caribbean poi porterò sicuramente il black mamma quindi mango e mentolo e il latac assoluto però voglio prendere una pausa perché appunto voglio parlarvi di questo liquido ragazzi che mi ha colpito veramente tanto sto parlando del capoeira ice karma vaping che fa parte della grande famiglia di iron vape e un liquido che mi ha sorpreso ragazzi sapete benissimo che io non sono un grande amante di fruttati non mi fanno impazzire neanche gli ice però con questo caldo ragazzi bisogna scendere a compromessi e devo assolutamente svapare un po di freschi perché se no non ce la faccio tutto il giorno e devo dire che questo ragazzi mi ha veramente colpito dalla descrizione papaya pan di spagna e ice ragazzi io alla prova olfattiva sinceramente faccio fatica a ritrovare quello che c'è scritto in descrizione perché ci sento sicuramente una parte fruttata viene su secondo me anche una parte aggrumata quasi di limone questa nota dolce bella avvolgente a giallo olfatto e ovviamente non ci sento l'ice che però poi si ritrova tranquillamente durante lo svapo ce lo proviamo sul churchill da 24 allora ragazzi secondo me anche allo svapo si fa fatica a ritrovare quello che c'è scritto in descrizione ma è un liquido ovviamente è sempre e soltanto una mia considerazione prendetela con le molle il gusto specialmente in fatto di liquidi è sempre estremamente soggettivo ma questo è un grande liquido ragazzi secondo me per l'estate è veramente buonissimo ci si sente questa parte fruttata dove anche allo svapo io ritrovo una sensazione agrumata fare fatica ragazzi a distinguere il pan di spagna come nota però gli dà una quasi cremosità una avvolgenza a questo liquido veramente interessante ragazzi e poi arriva questo ice anche qui l'ice è bilanciato molto molto bene non è estremamente aggressivo ma rende questo liquido piacevole specialmente con questo caldo apro una parentesi se mai per caso i produttori in questo caso massimiliano vedesse questo liquido il mio consiglio è di lavorare magari settembre ottobre su questa nota cremosa di questo pan di spagna perché la trovo sensazionale magari per un liquido più adatto ecco all'inverno perché ragazzi è buonissimo 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 questo sentore dolce cremoso cioè da un'avvolgenza al liquido molto molto interessante ripeto nota fruttata faccio fatica a sentire questa papaya ci si sente un qualcosa di di un frutto esotico secondo me accompagnato da altri frutti probabilmente da qualcosa di agrumato e questo dolce è veramente interessante molto bilanciato e poi questo ghiaccio a spezzare il tutto a rendere il tutto più piacevole in queste giornate di caldo ho voluto portarvelo specialmente perché me lo sono sparato quasi tutto tornerò presto spero lo sapete che con il caldo io faccio veramente fatica con i back in black se avete modo di provarlo e vi piace questo genere di liquidi secondo me andate a colpo sicuro se non vi piace il genere un po come a me vi consiglio comunque di provarlo perché secondo me è un liquido molto molto interessante un'altra sbavatina un abbraccione a tutti e ci vediamo presto